Ma credo che a questo punto l'altra voce autorevole in materia sia proprio quella dell'ingegner romano che vive sulla propria pelle, diciamo così, queste vicende legislative o paralegislative. Quindi se fosse disponibile io gli lascerei la parola ringraziandole per essere presente stasera. Non so se vi sentite. Perfetto, grazie. Riportato con la logica che dire essendo PNRR e dovendo noi adeguare la normativa relativa ai servizi pubblici andiamo a riportare tutto in una logica concorrenziale. Allora, la logica concorrenziale, ripeto quello che giustamente ha detto l'avvocato, noi sviluppiamo un servizio a rete, servizi che oramai vengono definiti di interesse economico generale, e a fronte di questi servizi abbiamo degli utenti, non abbiamo dei clienti. Cosa diversa è che se io ho le varie reti per i cellulari, per gli iPhone, a un certo punto io potrò andare da A o da B o da C. Quindi il trasferimento tutto in una logica di clienti. Il discorso è che quando Mariangela Rosolaine apre il robinetto dell'acqua non può andare a dire ma io voglio un'altra acqua, voglio che il gestore sia un altro. Perché sa che è quello e quindi c'è un discorso che intanto va sull'aspetto base e qui a questo punto, ancorché sia un elemento soft, poi entriamo nel merito del discorso soft, però è chiaro che tende tutto a dire se noi lo portiamo a gara, logicamente a gara si possono tutti confrontare e vince il migliore. Allora che sulla gara vinca sempre il migliore è un altro bel discorso. Non ultimo, noi ci troviamo a essere radiografati mese per mese a fine anno, abbiamo la verifica, la chiamano il controllo degli indici, dei parametri, della funzionalità. Quindi un esterno che partecipi a una gara sa benissimo cosa sia e fare un po' di dumping ci vuole proprio niente. Per cui bisogna anche capire che da un lato i sindaci hanno voluto riportare sulle società in house un valore identitario dei territori. L'acqua nasce da questi territori e quindi tendenzialmente si vuole che ci sia un'azienda pubblica nella quale sono presenti in assemblea tutti i sindaci. Poi sulle aziende pubbliche magari approfondiremo anche qualcosa, ma non è questo. Qui invece si vuole andare ed è giustissima la nota che ha evidenziato la Presidente, se sei Presidente del Comitato di Torino, ed è che la filosofia è di portare tutto a una forma competitiva, che di per sé, ripeto, poteva andare bene vent'anni fa quando era iniziato tutto, c'era da capire, non si sapeva neanche che cosa volesse dire l'in-house providing, il discorso di... Quindi teniamo conto che a Torino sui trasporti hanno fatto una gara e l'ha vinta GTT, però oggi siamo a vent'anni dopo, abbiamo in mezzo avuto un referendum che ha portato certe valutazioni specifiche sul tema, ricordiamoci che la legge che aveva evidenziato il centro-destra era punto uno, tempo un anno tutte le in-house devono scomparire, punto due, su quelle che sono le quotate al massimo un comune può arrivare al 35%, poi c'era il punto tre che era il capitale investito. Quindi in questa situazione è chiaro che noi ci siamo trovati, e purtroppo l'abbiamo vissuto anche con la Madia, con una tendenza da parte dei legislatori, ma fondamentalmente dei ministeri, che è di elevatissima severità nei confronti delle aziende pubbliche, se non addirittura di ostilità. E quindi è chiaro che abbiamo dovuto cercare di, intanto, efficientarci di più che dei privati, perché l'unico modo è quello, cioè tu dimostri al cosiddetto mercato che hai una delle tariffe più basse d'Europa e fai investimenti, non è nel caso specifico, ma tutti fanno investimenti significativi pagati tutti dalla tariffa. Per cui il discorso oggi era di capire, ma mi sembra che l'avvocato abbia evidenziato in modo molto chiaro alcuni punti. Io vorrei rispondere su due in particolare. Uno, l'articolo 19, il fatto che si dia cinque anni sulle concessioni per servizi a rete, anche lì c'è stata una manina per riprendere la filosofia e il metodo. La manina ha riportato altra cosa, cioè perché poi la battaglia con le nostre associazioni l'abbiamo fatta e siccome questo era la dimostrazione di non saper ragionare che cosa sono gli investimenti, cosa sono i relativi ammortamenti, a questo punto sono rimasti cinque anni, ma per i servizi non a rete. Quindi la lettura dell'articolo 19 sarà società di scopo massimo cinque anni, quindi tutte le società che hanno un'attività diretta data dal comune possono al massimo avere una concessione per cinque anni, ripetibile per carità, però a livello di cinque anni si chiude. Giusto o sbagliato hanno riportato quell'elemento. Però c'era un altro punto molto pesante ed era che quel discorso degli obblighi motivazionali e quindi la rilettura delle concessioni partiva sempre nella stesura iniziale per le concessioni già in essere, si diceva tutte le concessioni in essere devono essere giustificate. Voi capite che qui noi stiamo cercando di portare avanti il PNRR, fare gli investimenti, abbiamo tempi strettissimi per operare e dovevamo andare a rigiustificare che a SMAC è stata data questa concessione, che al CAP di Milano è stata data quella, che alla CIA di Roma è stata data quella. Per cui questa è saltata, che è una cosa che è già piacevole e l'altro elemento è che da quello che io leggo il sistema, ma riprendendo anche un attimo il documento che ha fatto il Comitato, c'è un vincolo a non far gestire servizi a rete dalle aziende speciali. Che sia giusto o sbagliato, vi sapete come la penso io, ma al di là di questo io devo dire che quel vincolo c'è e probabilmente è l'elemento più critico. Per quanto riguarda la motivazione rinforzata, il cavallo Perino ha detto l'accanimento sugli obblighi motivazionali, noi vorremmo riportare che dovrà illustrare le caratteristiche dell'affidamento in house. Qui passare da un obbligo motivazionale, per cui c'è un peso iniziale e vuole spingere magari i comuni a dire ma perché allora non facciamo una gara e ci togliamo questo carico di lavoro, ha un sistema che invece è un sistema che non può che riportare a fronte di quelle che sono anche le attività fatte nel ventennio precedente nel trentennio precedente perché ricordiamoci che oggi, almeno avendo superato il vincolo di rigiustificare le concessioni esistenti, si va avanti sia per le in house come SPA e sia per le in house come aziende speciali. Questo quindi è un po' il punto. Dopodiché io vi facevo vedere prima il discorso di un'indagine. Vediamo se mi metti questo. Quest'indagine è stata fatta dall'associazione europea che si chiama Euro, Euro è l'associazione delle associazioni nazionali e effettivamente a livello di 2021, quindi sono dati molto recenti, gli avevamo chiesto di fare un confronto sulla percentuale della popolazione servita dall'acquedotto, cioè dalla drinking water, quindi lasciando perdere le fognature, la depurazione perché in Europa c'è un po' un arlecchino su questo sistema, siamo noi la realtà più interessante per quanto riguarda la filiera grazie naturalmente alla legge Galli che era partita e su area vasta e su integrazione dei tre servizi. Come vedete qua ci troviamo con delle realtà e questo per dar valore effettivamente alle tesi che evidenziava l'avvocato Cavallo Perini e cioè in Europa addirittura lasciando perdere alcune realtà, Austria non è neanche scritto e non c'erano elementi, però tutti gli altri, vedete la Danimarca un 64% di società pubbliche con un 36% molto elevato di società private. Se invece andiamo addirittura in Estonia c'è sempre un 66% di società pubbliche, le società private addirittura hanno anche la proprietà delle reti. Era stato il sistema TAC, quando la TAC ha privatizzato tutto il servizio pubblico dell'acqua in Inghilterra, ha venduto anche le cosiddette proprietà, gli asset e quindi le reti e gli impianti. Poi c'è la Francia che ha il 64% di società pubbliche, cioè la popolazione, ricordiamoci, è gestita al 64% da società pubbliche, abbiamo l'Italia che mi sembra decorosa, c'è quel punto della gestione in economia, ma se guardiamo l'Irlanda, addirittura l'Irlanda ha l'89% che sono gestioni in economia. Bisogna capire se le gestioni in economia sono poi in grado con la tariffa di fare gli investimenti, di migliorare le reti, cioè entrare a questo punto su quello che è una valutazione tecnica di qualità del servizio, cosa che in questo decreto concorrenza, chiamiamola ancora così, assolutamente non è riportato. L'elemento di fondo dovrebbe essere, ma se vogliamo andare tra pubblico e privato, avere parità di condizioni tra pubblico e privato, ma proviamo a vedere qual è la qualità, per cui siccome c'è una sunshine regulation, cioè il regolatore prende tutte le aziende che gestiscono su 31 indici, scusate, che sono parte contrattuali e parte di qualità tecnica e le mette tutte al confronto e tutti noi possiamo andare a vedere, è già lì che si valuta se determinate società con quelle caratteristiche operano bene, operano male, se sono agevolate, quindi premiate, oppure se sono penalizzate. Quindi a livello nazionale, anche se c'era stata una volontà di dire togliamo le autorità, le autorità sono quelle che per esempio ci consentono di avere un finanziamento agevolato da parte di banche. Perché ci danno una determinata garanzia con i metodi tariffari che hanno impostato. Poi si potrà entrare nel merito dei metodi tariffari, per carità, è tutto aperto questo sistema. Però noi siamo a questo livello. Come vedete abbiamo 10% in economia, 57% che invece sono le aziende in house, le società pubbliche sono le in house, il 2% di società private e tendenzialmente sono società francesi e il 31% di società miste. Questa società mista messa così in realtà, come anticipavo prima, sono le società quotate in borsa che incidono in modo indubbiamente significativo. Poi a parte Malta, anche se Malta è importantissima perché abbiamo la Presidente del Consiglio Europeo, però l'Olanda 100%, la Polonia 93% pubbliche, Portogallo molto in house e poi un po' pubblico e un po' privato, la Repubblica Ceca è tendenzialmente sul privato, Romania tendenzialmente sul pubblico, la Spagna è equilibrata nel senso che ha pubblico, ha privato e ha società miste, Svezia 100% del pubblico, Ungheria 96% del pubblico, la media europea, guarda caso, combacia con la media italiana per quanto riguarda le società pubbliche. Poi però ha più società private, c'è il 13% e ha molte più società miste. Quindi il discorso di fondo rispetto a noi ha molte meno società miste. Quindi questo è un po' il quadro. Da questo quadro che ci siano dei vincoli per cui ci chiede di andare a condizionare fortemente le società pubbliche, in particolare in house, a fronte di un mercato competitivo, beh questa era la voglia che io ho chiamato, la voglia di fare gli serif. Dopodiché è stato portato, cosa si può tentare di migliorare, se possiamo togliere il sistema, cosa si può tentare di valutare in termini di quello che logicamente è l'aspetto motivazionale. Io devo dire che quando abbiamo avuto la concessione mi ricordo che l'autorità d'ambito locale, e allora c'era solo l'autorità d'ambito locale, ha fatto 20 pagine con le quali ha dato riferimento, le caratteristiche, il tipo di attività che avevamo già svolto e quindi non era una logica di giustificazione, era una illustrazione. Noi vorremmo che venisse riportato proprio come illustrazione di questa attività che fanno le società in house e che diventa elemento per le società in house. Io tendenzialmente mi fermerei qua. Penso che ci sia magari qualche interesse, logicamente, da parte di, vedo che ci sono molti comuni, e poi abbiamo anche dei relatori. Questo discorso delle dinamiche competitive penso che sarà anche questo un sistema che viene portato avanti, giusto per dire che a questo punto abbiamo anche rivisto questo, la logica del PNRR, cosa che noi non vorremmo che si fermasse perché fra l'altro la realtà che ho il piacere o l'onore di presiedere è riuscita ad avere quasi 200 milioni dal PNRR. Naturalmente siamo tutti con la pancia a terra perché entro dicembre dovremmo iniziare a legare per e dopo di che in tre anni chiudere tutte queste attività non sarà cosa semplice. Quindi vorremmo perdere poco tempo su questo e lasciare spazio a molte manine. Qualcuna l'abbiamo già messa e magari qualcuna la mette pure il movimento dell'acqua così siamo tutti, ci distribuiamo un po' il lavoro. Io vi ringrazio. Grazie a lei Presidente, grazie infinite di questo escursus tecnico ma anche politico. grazie a lei Presidente di questo escursus tecnico ma anche politico.